Abbiamo subito danni all'impianto elettrico, totalmente all'impianto elettrico, è comunque un danno molto molto grande, frigoriferi, macchine, trattori, tagliaerba. E' quantificabile? Ma credo sì, 20.000 euro. Rappresentano per una cooperativa come la vostra 20.000 euro? Rappresentano la chiusura, quindi non possiamo ripartire. Con il contributo di tante associazioni ed altre cose spero di riuscire a fare qualcosa, ma come vede è complicato. E' questo l'appello lanciato dalla Presidente della Cric di Ponte Buriano e Cincelli, un accorato appello che arriva dopo l'esondazione dell'Arno. Arrivava, infatti si vedono i paletti, erano sommersi, più o meno un metro e venti. Qual era la situazione qui ieri dopo l'esondazione dell'Arno? Era tragica. Qui, infatti, il fiume è straripato e si è riversato nell'area di contenimento alluvionale, dove si trova il parco, ma anche le strutture della cooperativa, che hanno subito danni ingenti per oltre 20.000 euro. Questa struttura qui esiste da quasi 50 anni, da 43 anni. Il mio compito è stato quello di prendere in mano questa struttura insieme a tante altre persone e portarla avanti in qualche modo, portare avanti la tradizione. Dare e ridare un sorriso alle persone anziane che ci sono in questo posto e che ci sono da 40 anni. I lavori di recupero di ciò che resta inizieranno il prossimo mercoledì.